E allora eccoci arrivati a un'altra partita di quelle importanti, un'altra partita di quelle pericolose, difficili e complicate per tanti motivi e per tanti aspetti, ma questa sera deve essere una partita soprattutto dell'Inter e basta, il resto ci interessa poco. In regia il buon Davide D'Agostino, ma soprattutto al mio fianchissimo il mitico Cristian Recalcati, ciao Reca. Cerca di fare un po' i nervoselli. Aspetta un attimo Lautaro Martinez alla Noglu, un tiro, traversa pieno e poi la rovesciata di Turam e il pallone tra le braccia di Ruiz Patricio. Guarda il tiro di Ciala da fermo, guarda il tiro di Ciala da fermo, guarda il tiro di Ciala da fermo, da fermo, guardalo là, guardalo là, guardalo là, guardalo là. Dumfries si accentra allora Pavar, Dumfries salta l'uomo molto bene, attenzione va sul fondo, grande finta di Dumfries, altra finta, meraviglioso Dumfries, il cross Turam la palla rimane lì, mamma la palla è incredibile Patricio, cosa ha fatto Denzel Dumfries? Ragazzi cosa ha fatto Denzel Dumfries? Ancora finita vai Ma il numero di Mkhitary è andato per Di Marco, fuori, incredibile il numero di Mkhitary è il tocco per Di Marco, che va di esterno sinistro a mettere il pallone al lato di pochissimo. Tanto l'altro cross, via Bastoni, via Bastoni Mamma mia cosa ha parato Sommer, mamma mia su come testa di Cristante Ma come fai a fargli fare quel tiro lì a Cristante? Ma dai, ma ragazzi, ma non scherziamo, un colpo di testa da tre metri, tutta la libertà del mondo per prendere tutto il vantaggio. Aspetta Sergio, 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 siamo ripartiti Sergio, tre contro tre, Mkhitary, 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 il tocco per Lautaro Martini e sento nel rigore. No, fermato, sono in 18 su di lui, la palla è fuori e il tiro deviato, che culo! Deviato, 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 ma che fortuna hanno, ma che fortuna hanno! Guarda, la differenza è questa, allora, il tiro dell'Inter deviato fuori, il tiro della Juve di Lucatelli dove va in porta, in mezzo davanti a Magnani. Vi fai moniva che ti tocca anche te, così, però, a me non fa più niente, mi hai dato via. Sì, 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 infatti, così poi non giocate più. Attenzione a Barella, Barella da centrale per Aslani, no? Aslani lascia a Darmian, che torna per Barella. Dentro per Di Marco, attenzione, Di Marco la mette in mezzo! Ma non ci arriva di una nulla Thuram! E poi la lotta a Dumfries, Lukaku, lotta, lotta a Dumfries, bravo! Li porta via il pallone al fischietto, all'uomo fischietto. Attenzione al cross, ora, secondo palo, la palla fuori! Sì, aspetta Di Marco, Di Marco, Di Marco, il cross! Thuram! 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 Grande Thuram! Grande Thuram! Marcos Thuram! Grande Thuram! Grande Thuram! E' tanto inquadrato Lilian, grandissimo giocatore del Parma, grandissimo giocatore della Nazionale Francese e papà di Marcos Thuram. 1-0 il gol di Marcos Thuram! Il gol di Marcos Thuram! 1-0! Mamma mia! Mamma mia! Ora l'abbraccio finale con l'autano Martini e sotto la curva, sotto la curva tutti e due! Avanza Bastoni, avanza Bastoni, c'è Carlos Augusto che riceve la palla in questo momento. Lavora, 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 lavora. Bravo Carlos, bravo Carlos, prova il tiro! Traversa! Traversa! No! Maria! Ma non è possibile, non è possibile, non è possibile una traversa così. Attenzione, ora all'altra parte, Darmiana ancora, il pallone per Barella, il tocco fuori per... Thuram è dappertutto ragazzi. Grazie a tutti!